Ciao ragazzi, oggi parliamo di un argomento molto speciale perché molti si sono accorti che sono dimagrita e in effetti negli ultimi mesi è successo, è passato un po' di tempo quindi adesso mi sono stabilizzata e finalmente voglio raccontarvi tutto quello che è successo. La premessa è che io ero normopeso, sono ancora normopeso, benché io abbia perso 10 kg di massa grassa. All'inizio dell'anno sapete che avevo iniziato ad allenarmi moltissimo, poi in realtà da maggio mi sono fermata completamente l'unica cosa che ho continuato a fare è camminare, sforzandomi magari di fare qualche passeggiata in più al giorno ma in realtà io vivo una vita molto sedentaria quindi queste passeggiate compensano con l'attività fisica minima di una persona che esce, va a lavorare, fa le solite cose. Perciò purtroppo in questi mesi non sono riuscita ad allenarmi come avrei voluto e ovviamente non ho seguito nessun tipo di dieta ipocalorica. Questo per dire che il mio dimagrimento non ha niente a che fare con l'attività fisica purtroppo che invece vorrei implementare e allo stesso tempo non è dovuto nemmeno a una dieta. Fortunatamente nella mia vita non ho mai avuto disturbi alimentari, ho avuto sempre un rapporto con il cibo abbastanza sano però spesso mangiavo con la testa e spesso mi capitava di mangiare un po' troppo rispetto a quanto pensavo che avrei dovuto mangiare e sentirmi in colpa. Ero abbastanza equilibrata però comunque avevo anch'io i miei sensi di colpa e devo dire che nella mia vita ho passato un po' tutte le fasi con il cibo dalla fase in cui mangiavo dalla mattina alla sera schifezze fregandomene di qualsiasi cosa alla fase in cui invece pesavo minuziosamente tutti i cibi e contavo le calorie quindi per quanto io non avessi chissà che problemi non ero totalmente equilibrata. Non so come in realtà, non mi ricordo bene com'è successo però ho iniziato ad avvicinarmi alla Mindful Eating e oggi, dopo parecchi mesi, ragazzi, posso dirvi di essermi liberata di tutti i paletti mentali che avevo ancora. Perciò oggi voglio raccontarvi bene cosa ho fatto per perdere questi 10 kg senza dieta, senza allenamento, semplicemente imparando a conoscermi meglio e sviluppando un rapporto più sano con il cibo. Non è una ricetta segreta, non ci sono miracoli però magari la mia esperienza può aiutarvi. Prima di arrivare a parlare del Mindful Eating però in realtà c'è stata tutta una fase di conoscenza delle basi dell'alimentazione cioè mi sono interessata di studiare concretamente come funziona il nostro corpo e che cos'è l'alimentazione. Se uno ha problemi di salute è fondamentale andare dal nutrizionista e farsi seguire. In generale può essere utile a tutti, è vero. Però, secondo me, non basta farsi dare una dieta per imparare a mangiare. Non a caso quasi tutti vanno dal nutrizionista, si fanno dare la dieta, per un po' di mesi dimagriscono e sono super felici e poi continuano a vivere la loro vita mangiando quel cavolo che gli pare senza nessun tipo di consapevolezza. Per me è stato fondamentale essere curiosa, imparare cosa sono i micronutrienti, che differenza c'è tra proteine e carboidrati, come funziona il nostro corpo e quindi perché se io mi mangio una cosa ingrasso o non ingrasso. Perciò il primo step per me è stato disimparare tutti i preconcetti che avevo sul cibo, smontare tutte le bufale che ogni giorno si sentono e soprattutto sostituirle con nozioni scientifiche e vere. Perché se per esempio pensate che i carboidrati la sera vi fanno ingrassare solo perché li mangiate la sera o che l'acqua e il limone al mattino vi farà dimagrire, cioè mi dispiace ma non è così. Come ho fatto? Semplicemente con un po' di curiosità ragazzi, le informazioni ormai su internet si trovano, un canale YouTube che vi consiglio tantissimo, vi potete fare una perfetta cultura alimentare di base sul canale di Project Invictus, è fantastico, cose specifiche spiegate da professori, esperti, quindi non sbagliate. E tra l'altro se preferite avere tutte le informazioni impacchettate in un libro loro hanno fatto anche Project Nutrition, è un libro un po' costosetto perché costa sui 40 euro, però è super interessante e completo. E questo mi è servito tantissimo perché sapere come funziona il mio corpo, sapere cosa sto mettendo in bocca, avere queste conoscenze mi serve sia nell'avere un'alimentazione bilanciata senza l'aiuto di nessuno e soprattutto a vivere un rapporto più sano con il cibo. Il secondo step è stato capire che il mio corpo non determina il mio valore, cosa davvero difficile per me, vi assicuro, perché pur essendo sempre stata normo peso, nel periodo dell'adolescenza ho vissuto un piccolo trauma interiore dovuto al fatto che da bambina super magra, super alta, ho iniziato a svilupparmi. E vi assicuro che il mio rapporto con il corpo fino a qualche anno fa era terribile perché da piccola sono sempre stata la bambina super magra, super alta, longilinea, filiforme, gambe sottice. Io vi assicuro che fino agli 11 anni ero sempre la più magra e la più alta. Poi cos'è successo? Mi sono sviluppata e come tutti mi sono usciti i fianchi, la mia altezza si è fermata lì, a 11 anni ero già alta un metro e 66 e sono rimasta così. Non mi sto lamentando, però vi sto spiegando il piccolo trauma interiore che ho vissuto. Ci ho messo un po' di anni, però oggi posso dire di aver accettato il fatto che la perfezione non esiste. E anche se mai dovesse esistere, io non mi sentirò mai perfetta perché di natura siamo sempre insoddisfatti di quello che abbiamo, siamo umani. Il consiglio che vi voglio dare per quanto riguarda l'accettazione è solo quello di essere più gentili con voi stessi perché spesso siamo i nostri più grandi nemici. Siate pazienti. Se non avete ancora raggiunto i vostri obiettivi, va bene. Non è detto che non li raggiungerete mai. Ognuno ha i suoi tempi, mi raccomando. Perciò dopo aver imparato come funziona il nostro corpo capito bene che cos'è il cibo, da cosa è composto e tutto ciò che riguarda l'alimentazione e soprattutto dopo aver accettato che l'idea di perfezione che abbiamo tutti in testa non esiste mi sono approcciata alla Mindful Eating che per me è stato lo step successivo per affinare qualcosa che già provavo a fare da anni, da sola ma non avevo tutti gli strumenti per farlo e quindi informarmi e leggere il solito libro che vi consiglio sempre mi ha svoltato. Non a caso, ripeto, ho rilasciato tutti quei chili senza fare niente. Non mi sto vantando, ve lo assicuro. È che io stessa sono sbalordita di quello che mi è successo e quindi lo osservo con grande entusiasmo, diciamo così. La Mindful Eating di cui vi parlo sempre è l'applicazione della mindfulness all'alimentazione e questa mindfulness che cos'è? La capacità, adesso vi dico proprio la definizione tecnica super pro è la capacità di porre deliberatamente l'attenzione sull'attimo presente quindi vivere momento per momento in modo consapevole e intenzionale senza critica o giudizio. Al di là della definizione tecnica il concetto è vivere nel presente cercare di essere più intenzionali nella nostra vita senza per forza essere sempre legati ai pensieri su quello che è stato o quello che sarà. Adesso non siamo qui per fare lo spiegone sulla mindfulness vi sto solo raccontando piccoli pezzettini di tutto quello che ho imparato e che è successo nella mia vita per arrivare poi dove sono adesso. Anche in questo caso le cose le ho imparate in modo molto naturale perché non so se succede anche a voi ma quando mi interessa un argomento voglio sapere tutto inizio a guardare video, libri, interviste cioè qualsiasi cosa trovo di quell'argomento cerco di assorbirla il più possibile. Il libro che più mi ha ispirata è sempre il solito che si chiama Mindful Eating e che devo dire ho letto poco per volta nel senso che è un libro che non va solo letto va assorbito e soprattutto all'interno degli esercizi pratici che sono quello che davvero ti fa sbloccare non è la lettura del libro in sé uno dei concetti più belli e più importanti che mi hanno davvero svoltato tutto è quello di distinguere i diversi tipi di fame sappiamo tutti che c'è la fame reale la fame nervosa in realtà nel libro descrivono addirittura nove tipi diversi di fame che può essere la fame dello sguardo non so se vi è mai capitato di vedere qualcuno che mangia e sentire immediatamente l'istinto di voler mangiare oppure la fame delle orecchie se sentite qualcuno sgranocchiare delle patatine vi viene subito voglia di mangiarle anche voi di tutte queste fami però ce ne sono quattro che per me è stato fondamentale imparare a conoscere e riconoscere per sbloccare totalmente il rapporto con il cibo e sono la fame della bocca la fame dello stomaco della mente e del cuore ve le descrivo brevemente ma poi ovviamente tutte queste cose vanno approfondite se vi interessa è giusto per incuriosirvi e farvi capire un po' di cosa si tratta la fame dello stomaco è quella fame che sentiamo quando lo stomaco brontola sentiamo lo stomaco vuoto la salivazione in bocca insomma quella fame che ci dice che il nostro corpo ha bisogno di carburante per andare avanti la fame della bocca come dice la parola stessa è proprio il desiderio che la bocca ha di avere cose piacevoli ed è fondamentale imparare a conoscerla proprio perché è quello che ci spinge a continuare a mangiare un piatto anche se siamo sazi perché la bocca vuole prolungare il piacere che prova nel sentire queste sensazioni quella del cuore devo dire che io mi sono ritrovata a soddisfarla molto molto spesso perché io amo farmi coccolare dal cibo è sempre stato così però rendermene conto mi dà più potere tra virgolette nel vivere questa cosa con consapevolezza e non farmi trascinare dall'emozione in sé quindi io assecondo la mia fame del cuore mangiando quel cioccolatino dopo pranzo e lo mangio quasi tutte le volte e lo faccio perché so che ne ho bisogno ma senza lasciarmi trascinare dall'emozione in sé la fame della mente poi la chiudo qui con tutta queste fami e passiamo ad altre cose è invece quella più stronzetta perché è la fame che si intromette con giudizie critiche è la fame che ci dice cosa dovremmo o non dovremmo mangiare la nostra mente che è impossibile da fermare è impossibile da eliminare non si può fare ragazzi la nostra mente c'è i giudizi anche il punto è riconoscerla e non farle avere potere su di noi e io ne sto parlando con così tanto entusiasmo perché pur essendo concetti magari un po' strani alcuni saranno scettici ci sta lo capisco però io vi assicuro che in tutta sincerità ho iniziato ad acquisire questa consapevolezza dopo l'estate in pochissimi mesi ho rilasciato tantissimi chili semplicemente ascoltando la mia fame dello stomaco e saziando la fame del cuore senza nessun tipo di giudizio e il punto è proprio questo non avere regole e paletti troppo rigidi perché il nostro corpo sa come autoregolarsi e se rimpariamo ad ascoltarlo probabilmente ci sentiremo molto meglio so che ve lo starete chiedendo quindi cosa fare in pratica per mangiare in modo più mindful il consiglio più comune è quello di mangiare più lentamente perché se mangiate velocemente magari non vi accorgerete neanche che state mangiando di solito si mangia con la televisione accesa il telefono in mano parlando non prestando attenzione al cibo ecco questo è forse l'errore più comune perché se non prestate attenzione a quello che state mangiando e mangiate super velocemente ingorgitando tutto uno non registrerete di aver mangiato e quindi ne vorrete ancora di più due non darete al vostro stomaco di sentire il senso di sazietà perché addirittura ci vogliono 20 minuti affinché lo stomaco senta di essere pieno nel momento in cui iniziate a mangiare quindi mi raccomando provate a fare questa cosa ogni volta che prendete un boccone provate ad appoggiare la forchetta masticare 15-20 volte o comunque quando sentite che il cibo è pronto ad andare giù e poi quando avete mandato giù il cibo riprendete la forchetta e ricominciate a mangiare secondo consiglio non obbligatevi a finire tutto quello che c'è nel piatto questa è una regola che ci è stata imposta dai nostri genitori dai nostri nonni con un intento molto nobile cioè di non sprecare il cibo io non vi sto consigliando di sprecare il cibo semplicemente non siete obbligati a finirlo in quel momento se vi sentite sazi la regola di finire tutto quello che c'è nel piatto è veramente terribile se volete mangiare in maniera più consapevole perché non è possibile decidere a priori quella che sarà la vostra quantità giusta ci saranno volte in cui capiterà che una volta finito il piatto avrete bisogno e voglia di mangiare qualcos'altro e volte in cui non riuscirete a finire tutto quello che pensavate avreste mangiato non è facile nemmeno per me sono cresciuta anch'io con questa regola però ci sto provando e devo dire che mi capita molto spesso di mettere da parte quello che non sono riuscita a finire e consumarlo la sera adesso non so se si sarà sentito ma il mio stomaco sta brontolando perché sono le 2.20 e non ho ancora mangiato e ho fame terzo consiglio se state cercando di migliorare il vostro rapporto con il cibo è quello di sperimentare piatti nuove ricette nuove a me capita molto spesso di sentirmi annoiata e quindi ripiegare sulle cose meno sane del mondo diciamo solo perché non ho fantasia nel creare nuovi piatti perciò il mio consiglio è sperimentate il canale migliore che potete trovare per quanto riguarda ricette salutari secondo me è quello di cucina botanica vi si aprirà veramente un mondo l'alimentazione sana non per forza deve essere noiosa ci sono una marea di ricette super colose fantasiose e davvero interessanti da sperimentare quindi non abbiate paura di mettere nel carrello nuovi ingredienti che non avete mai provato l'ultimo consiglio che vi voglio dare è quello di cercare di avere un'alimentazione il più possibile vegetale io non sono né vegetariana né vegana lo sapete però da tanti mesi ormai ho cercato di basare la mia alimentazione sulle fonti vegetali quindi questo significa che comunque mangio carne e pesce latticini però più della metà dei pasti che mangio sono completamente vegetali quindi mangio tante verdure tanti cereali tanti legumi avendo limitato molto la carne e il pesce la carne veramente ragazzi la mangerò quattro volte al mese non di più compreso pollo e carne rossa diciamo mentre il pesce è un pochino più spesso devo essere onesta perché mi piace molto per il resto le mie fonte proteiche derivano dai fagioli lenticchie soia mi piace molto il tofu mi piace molto il formaggio quindi un paio di volte a settimana mangio anche i formaggi però per il resto il mio piatto è pieno di verdure legumi e cereali poi ognuno fa come vuole però è pieno di studi scientifici che dimostrano che questa sia l'alimentazione più sana e inoltre se vogliamo parlare di dimagrimento mangiare verdure legumi vi farà sentire molto più sazi vabbè io non sono qua a fare la lezioncina su come si deve mangiare però il consiglio di integrare più ingredienti di origine vegetale è assolutamente da provare una sfida potrebbe essere quella di integrare almeno un pasto al giorno solo di origine vegetale per provare ad avere un'alimentazione più sana e bilanciata perciò ragazzi queste erano le tre fasi che mi hanno portato a perdere tutti questi chili senza una particolare intenzionalità io non sono una che si pesa spesso però effettivamente dall'anno scorso io ho perso questi 10 chili ne sono molto contenta ve lo dico ma più che altro perché mi sento bene nel mio corpo e la cosa più bella è che il mio corpo rispecchia solamente un benessere interiore cioè una pace che ho trovato nel rapporto con il cibo non era l'obiettivo ma è semplicemente stato la conseguenza di una quotidianità più tranquilla basta questo era quello che vi volevo dire fatemi sapere con un pollice in su se vorreste vedere anche il video in cui vi do dei consigli un po' più concreti su come vivere la quotidianità in maniera più mindful e su come mangiare in modo più consapevole ci sono delle cose un po' più pratiche di cui mi piacerebbe parlare però registrerò il video solo quando arriveremo a 5000 mi piace giù nei commenti aspetto le vostre esperienze fatemi sapere cosa ne pensate se anche voi avete provato a mangiare in maniera più mindful oppure se non ne avevate mai sentito parlare iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video attivando anche la campanellina io come sempre vi aspetto su instagram e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti